Mi raccomando, faccio un attimo, entro, furto, quattro contanti e poi arrivo, mi raccomando, mi raccomando, faccio un attimo, 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 non è che risparmiamo? La faccio uno, sì, il risciacquo, sì, sì. Viene la macchina. Cosa ho fatto? Allora, è una rapina, grazie al denaro. Alza le mani. Sì, la mano destra, la mano sinistra, le mani sono il capitano. Non so la combinazione, aspettate che non è serata. Di merda, non è che per casa la combinazione della cassa, perché c'è tanto un rapinatore che può rapinare e ha una certa offrezza. Si vede che la mano rimbarca, ora che fondo di investimento che c'hai lì? Ma perché che trovi? Lì, trova, trova. Messo, penso, fatti le catene, fatti le catene che facciamo notare qui. Ti la dai con un super trafra. Ma, ma lei è, lei che siete, è un cliente? No, sei la piattola di prima. Ah, è la stessa prima, è lo stesso che fa. Eh, sì, sono sempre io messo da piacere, alzi le mani, alzi le mani, mi ha denaro, ha fatto un passaggio. E non so la combinazione. Ma dai, trova a piedi, hai già chiesto? Allora, tutto faccio, parlo con te, con tua sorella, ti prendo un biglietto all'esercizio. Ma stai parlando con me. Sì, stai parlando con la sorella. Ma voi, quanti tempi siete gatti? Noi non avevamo freddo. Minzo, hai rotta mano alla macchina, non ci stai parlando con la sorella. Allora, innanzitutto, lei deve stare dietro la rima gialla, perché ci sono i diritti della legge della privacy, che dicono che il cliente deve stare dietro la rima gialla. Minzo, ci sono ancora gli incentivi! Ma no, che ne approfitto un altro, grazie, un altro mezzo, eh? Grazie, non, non riusciamo a prendere qualche denaro, qualche soldo. Mi dispiace, non mi ricordo la combinazione. Si sa che io cambierò l'appunto, allora va bene. Sì, ma si cambierà l'appunto. Grazie. Come prima, è mistero circa paternità, perché vedere il grande talento di figlia, coscurata, padre, caso, maglia, è buono. E' bene. Per me, per me è molto bene, ma un po' problematario per le mie cose siano all'urbanimento. Non va bene, non va bene. Ma, vedi le sigarette? E' una cina gialla. Allora, basta. Ok, bravo. Bravi! Grazie. 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 Grazie.